Scardinare la violazione dei diritti in CGL Uncorner contro la violenza di genere Una pianta di camelia da curare giorno dopo giorno perché nessuno dimentichi quante vite vengono spezzate ogni giorno dalla violenza. Sono state queste in sintesi le parole di Adriana Drago, componente della segreteria provinciale della CGL di Siracusa, pronunciata nel corso di una sobria cerimonia durante la quale non solo è stata messa in posa la piantina, ma è anche stata scoperta una targa ed esposta un tabellone con i tanti nomi di donne vittime di femminicidio. Adriana Drago ha letto la storia di una donna barbaramente trucidata dall'uomo che diceva di amarla. Avrei potuto leggere per ore e ore, tante sono le tragedie che emergono dalle drammatiche pagine di diari a cui, come scrigni, in cui racchiudere il proprio dolore, queste donne affidavano i loro tormenti. Noi donne della CGL, nel nostro piccolo, vogliamo contribuire per scardinare la mostruosità della violenza.